Schivo, passionale, freddo, deciso, lui che non sa e non vuole perdere mai, lui, Walter Mazzarri, 50 anni da poco compiuti ed un anno, questo che a breve tutti saluteremo, che l'ha consacrato come l'uomo dei mille successi a tutti i livelli, in tutte le categorie. Al tecnico delle grandi imprese, in testa anche nella classifica, ingaggi, oggi, secondo opinioni più che condivise, andrebbe aggiudicato un riconoscimento di grande rilievo, come ad esempio la panchina d'oro, che sicuramente, dopo aver riportato il Napoli tra i top team in Europa, meriterebbe anche lui. La stagione scorsa, il terzo posto in campionato è la qualificazione storica in Champions, in questa stagione la perla della qualificazione tra le prime 16 squadre d'Europa. Una lunga cavalcata trionfale, passata anche attraverso il faccia a faccia di fine maggio con il presidente De Laurentiis, un incontro che con una stretta di mano sancì la continuità del progetto tecnico vincente chiamato Napoli, con un conseguente aumento d'ingaggio all'allenatore toscano per gli ottimi risultati conseguiti in due anni di lavoro sulla panchina azzurra. Walter Mazzari, dopo una lunga gavetta, passata attraverso gli anni di C e di B, le varie promozioni, la Sampdoria ed oggi il Napoli, è considerato tra i numeri uno in Italia, per la capacità di valorizzare le risorse umane a sua disposizione, ma anche e soprattutto per la capacità di lasciare la sua impronta plasmando ogni sua squadra a sua immagine e somiglianza nei pregi e nei difetti. Se oggi il Napoli ha un'anima, è grazie al suo condottiero in panchina l'uomo dalla camicia bianca all'inconfondibile scaramantico che quando toglie la giacca puntualmente festeggia una rete del suo magico Napoli.